Signori e signore, il dungeon mi ha servito. Secondo voi che un altro potreste chiamare questo buco di culo della terra? Un dungeon. Questo è il ponte che ha costruito l'altra volta. Credo che ve lo ricordate, no? Mi sono messo in proposta l'armatura, perché presumo che qua sotto il rischio di farsi male sia evidente. Allora, visto che ho costruito questo passaggio per arrivare più agevolmente a casa e voglio che non sia il vaso da schede di zombie, creeper e anche l'ombre coglione di tutte le malazze immature, metto questo cancelletto così siamo sicuri. Allora, vi ricordate che un paio di episodi fa, in questo punto qui della grotta, trovai questo muro di ghiaglia, di cui qualche frammento è rimasto? Bene, io voglio scavare qua sotto, perché non so perché, perché in qualche modo qua sotto sento che ci sarà qualcosa di interessante da scoprire, perché la ghiaglia è nascondere il passaggio, il passaggio che io potrei creare. Io voglio chiudere, perché sinceramente di essere inculato alle spalle non mi sta proprio bene. Oggi scenderemo nelle profondità della terra, per scoprire e svelare i segreti dell'ignoto. Sia chiaro, non è che sto facendo l'imitazione di Piero o Angelo, ma semplicemente il fatto è che, quando si scende nelle profondità della terra, c'è sempre qualcosa di bello da scoprire. Io spero solamente di non imbattervi nei segreti del fischio, perché quelli mi stanno ancora con le palle in un modo appissale. Allora, troviamo qualche blocco di calzone. Questo è il primo di qualcosa di più bello che potrei scoprire. Il mio obiettivo, ormai assodato, lo faccio che ripetere in ogni episodio, voglio trovare i fottuti diamanti. Perché? Ma non solo per farmi il piccone per poter ricavare l'ossidiana. Mi servono i diamanti perché devo fare questo cazzo di tavolo degli incantesimi. Tra poco, sono, già con questi 43 episodi, ancora non sono usciuto a trovare diamanti e ancora non sono usciuto a trovare anche la rettava degli incantesimi. E sinceramente questa cosa mi sta facendo incazzare. Se voglio andare nel letter, se voglio cominciare a lavorare sotto, ho bisogno dei diamanti per farmi il tavolo degli incantesimi. Tengo 56 livelli, le voglio investire in qualcosa di interessante, è un'arco che spara fiamme, una spada che ti incende il buco del culo, un piccolo che è troppo livelluto. E sono sicuro che queste cose, col tavolo degli incantesimi, sono i primi che dropperò. Perché ormai la mia fortuna, quando si tratta di dare quegli incantesimi, per me è eccelsa. Perché sto parlando tanto? Perché devo perdere tempo per il momento di arrivare in fondo. Cioè, tecnicamente il fuoco l'ho raggiunto, perché per giù di questo penso che non ci possa andare. Quindi saliamo un pa' di blocchi e incominciamo ad allargare il bluco per vedere se ne scatturare dentro. Sto trovando un desite, diorite, carbone, ferro, no. La cosa interessante è che non riesco a fare manco la pietra rossa. Oppure la pisosina. Strano. Eppure lo sicuro che in questo punto celato dalla chiaia ci stava qualcosa di interessante. a parte il fatto che sto distruggendo tecnicamente e inutilmente i piccoli, perché sto facendo blocchi da tutte le parti, non sto trovando un cazzo. Anzi, diciamo che il cazzo lo sto trovando, soprattutto che me l'hanno infilato su un piccolo culo. perché non trovo niente. Che devo fare per trovare qualcosa di interessante? Che devo fare? Che devo fare? Sto sfondando da tutte le parti. Ho fatto più mughi qui sotto terra che in una forma di groviera. Mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo. Ma se si scavano nella direzione sbagliata? Sì, vabbè, proviamo a scavare da un altro lato. Vediamo se trovo qualcosa di diverso. Ho avuto fortuna. Ho trovato ferro. Ho trovato una discreta quantità di raccoglie. Però sinceramente ho voruto chiamare qualcos'altro. E non vi dico che cosa perché ormai, se lo ripeto per l'ennesima volta, mi spuntate in faccia. E avresse perfettamente ragione. Questo è un blocco di ferro. Speriamo solamente di non beccare l'ava. Ehi, ferro. Oggi mi rifaccio il sangue nuovo a una parola ricca di ferro. Un po' come quando mangi le bistecche di cavallo. Quelle rosse, rosse, rosse che sembra che stai mangiando della carne viva. Quella per esempio è piena di ferro. Faccio così rossa. Ok. Qui ho rotto il più possibile e non poco di rompere da qualche altro lato. Può essere che ci sta ancora qualcosa qui? Gyaia. Se c'è Gyaia è probabile che qua sotto ci sia il mare. E non vorrei mischiare di... allagarmi. Ma facciamo un tentativo. Alla faccia quanta Gyaia. Ok. Voglio provare una cosa. Voglio vedere se funziona. Allora funziona. Ho trovato il sistema per prendermi tutta la staglia senza necessariamente romperla. Esibiranno molti torce. E no. Così, 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 così. Adesso dovrei rompere la pietra. Bene. Pingolo. Il sistema che ho visto in un video funziona perfettamente. Allora non sono tutte cazzate. Ho fatto il pieno di Gyaia e mi sembra che ce ne è stante parecchie. Come avete visto ho fatto un taglio e mi sono preso tutta la Gyaia utilizzando appunto le torce come spaccamento di Gyaia. Ho trovato anche altri ferro che naturalmente prenderò perché ho comodamente distrutto un paio di picconi e non voglio più madera senza ferro. Tra l'altro questo è altro ferro che investerò nella costruzione degli altri picconi. e più scelgo più trovo ferro che abbia finalmente trovato la strada giusta da percorrere per trovare quello che sto cercando famericamente da tanto tempo. Qua ci sta l'altro ferro Ah oro bene pietra rossa oro tutti vicini forse finalmente è arrivato il momento delle parti grasse oro grizzo va bene dai dai vediamo vediamo un po' cosa ci sta qualcosa altro dai altro lusso altro oro bene pietra rossa oro pietra rossa ferro ti prego fa che ci siano anche i delmi devo stare in sottoromi devo sacciare una sola speriamo che ci sono speriamo che ci sono speriamo che ci sono speriamo che ci sono scendiamoli qua forse ci sarà qualche altra cosa da scoprire non vi potrei neanche immaginare cosa tengo in vola ok devo scendere ancora mi sto dicendo questo gioco che devo continuare a scendere perché se continuo a scendere trovo quello che cerco sì però se continuo a scendere trovo la pietra di foglio non è detto che non sia una cosa positiva di solito a volte gli amanti stanno anche molto vicini alla pietra di foglio ma può essere quello che stanno là sotto in compenso sul trollo pietra rossa questo mi servirà per fare i circuiti se qualcuno mi danno il consiglio su come si cazzo ci possono essere io comunque sento ancora delle voci dietro dietro ci deve essere forse qualche caverna qua sotto